Credere alla risurrezione è essenziale affinché ogni nostro atto di amore cristiano non sia effimero e fine a se stesso. Prima dell'Angelus, Papa Francesco è tornato a parlare del mistero della risurrezione a pochi giorni di distanza dalla solennità di tutti i Santi e dalla commemorazione dei fedeli defunti. La risurrezione, ha detto, non è solo il fatto di risorgere dopo la morte, ma è un nuovo genere di vita che già sperimentiamo nell'oggi, è la vittoria sul nulla che già possiamo pregustare. La risurrezione è il fondamento della fede e la speranza cristiana. Se non ci fosse il riferimento al paradizzo e alla vita eterna, il cristianessimo si ridurrebbe a un'etica, a una filosofia di vita. Invece il messaggio della fede cristiana viene dal cielo, è rivelato da Dio e va oltre questo mondo. Dopo la preghiera mariana, il pontefice ha ricordato la beatificazione ieri in Albania di 38 martiri del regime ateo che dominò nel paese nel secolo scorso e l'accordo di Parigi sul clima è entrato in vigore in questi giorni. Alla vigilia dell'appuntamento a Marrakesh in Marocco, Papa Bergoglio ha auspicato che tutti siano in prima linea nella tutela della Casa Comune.